Nove agenti di polizia in servizio Piacenza risultano indagati in una indagine condotta dai carabinieri e coordinata dal sostituto procuratore Daniela Di Girolamo e che riguarda episodi dell'anno in corso tra gennaio e luglio. Per otto di loro le ipotesi di reato sono arresto illegale, calugna, falso in atto pubblico. A un nono agente viene invece debitato di aver reso false dichiarazioni ai magistrati. Nel mirino incriminazioni e arresti, uno per fatti di droga oltre a casi di altro tipo, che sarebbero stati effettuati dai poliziotti abusando dei loro poteri e sulla base di verbali redatti con false ricostruzioni e attestazioni, in certi casi estorti dalle vittime dietro minacce di ripercussioni. Gli agenti coinvolti sono in forza la squadra volanti della Questura di Viale Malta, il reparto operativo della Polizia di Stato, che principalmente si occupa di servizi di pronto intervento su richiesta dei cittadini. Siamo di fronte ad un'attività di indagine per la quale ci mettiamo a disposizione la Procura. Aspettiamo che le indagini che vedono un procedimento a carico di nuovi operatori di Polizia per un'attività fatta a gennaio ed altri due episodi, quindi saranno chiariti dalle indagini. Noi ci mettiamo a disposizione perché la Procura possa disporre anche delle nostre risorse per qualsiasi altro accettamento necessario. Oltre alle testimonianze, l'indagine si avvalsa di intercettazioni e nei giorni scorsi risultano essere stati posti sotto sequestro i telefoni cellulari degli indagati, a loro volta contestualmente raggiunti dalle informazioni di garanzia. Vittime dei reati contestati sono cittadini stranieri. Il 15 settembre scorso il Pubblico Ministero ha inoltrato al giudice per le indagini preliminari la richiesta di incidente probatorio per acquisire le deposizioni dei presunti illeciti e soprusi dai tre testimoni, sottoponendoli alle domande incrociate del Pubblico Ministero e dei difensori degli indagati. Siamo di fronte ad un'attività che non vede nessuna misura cautelare a carico degli operatori in questo momento, che sono state impiegate in altre attività meno operative, proprio per la garanzia di quelle che sono le attività di indagine. Altro non possiamo dire se non aspettare che la Procura, anche con la nostra grande disponibilità, faccia i dovuti accertamenti. Grazie a tutti.